Il nostro format è dedicato alle cure estreme della bocca e più precisamente al problema delle cure sanitarie. Perdere i denti psicologicamente è paragonabile allo shock di una mutilazione fisica. Ho visto donne di soli 35 anni piangere di fronte a uno specchio vedendosi mutilate. Ragazzi giovani senza neppure un dente per poter mangiare, potersi relazionare, oppure persone disabili che avevano subito l'estrazione di tutti i denti con una protesi poi di plastica in bocca. Quando iniziai anni fa a lavorare da giovane dentista pensavo e credevo che essere medico avesse significato per me aiutare realmente le persone. Avevo studiato tutti quegli anni in università per fare qualcosa di grande, di utile per i miei pazienti, ma la realtà del lavoro fu invece ben diversa dalle mie aspettative. Visitavo persone malate che non potevo curare per via dei costi delle terapie. Sapevo di avere le capacità per aiutarli ma non potevo metterle in pratica perché non potevano accedere alle cure. Questo era per me un motivo di grande frustrazione. Ascoltavo le loro storie, donne che avevano vergogna di dormire col proprio uomo per via della protesi mobile che portavano in bocca. E ciò che avrebbe pensato se il loro uomo avesse capito che non aveva più i denti, l'avrebbe baciata ancora. Comprendevo l'umiliazione continua a cui erano sottoposte nella vita quotidiana queste persone. Trovarsi in uno stato fisico e psicologico devastante. Lavoravo e riflettevo su quello che era realmente il ruolo del medico nella società, nel mio caso di dentista, di odontoiatra. Lavoravo in uno stato che dopo anni ho capito essere il vero mandante di tanto dolore. Le tasse. Perdere un dente sul piano psicologico che è fisico equivale alla perdita di un dito. Pensate a perdere tutti i denti. Non è solo un apparato per mangiare la bocca. Con la bocca si parla, ci si relaziona con gli altri. In sintesi si costruisce il proprio futuro. Si sorride alla donna o all'uomo che si ama. Alla donna che magari si sogna di sposare un giorno. Si sorride a un figlio, si mangia e si mantiene la salute del proprio corpo. Come vedere e sentire così mangiare è un bisogno umario primario, un diritto umano. Se uno di questi bisogni primari viene intaccato, la qualità della vita stessa peggiora. Non si sta parlando di avere i denti per poter fare la modella, ma si sta parlando, dicevo, di un diritto umano, del diritto a nutrirsi. Un diritto che dovrebbe essere garantito da tutte le costituzioni di ogni nazione in questo mondo. Denti e mani sono la prima cosa che le donne guardano in un uomo. La posizione sul viso del sorriso è centrale. Li rende un efficace biglietto da visita sociale. Considerare la cura della bocca come una cura accessoria è violenza dei nostri diritti fondamentali. Rifletti bene su tutto ciò che riesci a fare con le mani, con gli occhi, con la vista, con l'udito. Ogni giorno pensa a quello che tu fai con questi straordinari regali che ti ha fatto la natura. Immagina se da un giorno all'altro dovessi iniziare a perdere le dita, le braccia, diventare cieco, sordo. Peggio ancora, perdere l'uso delle gambe. La tua vita pensi che cambierebbe? E se poter avere la sedia a rotelle dovessi spendere più di 40.000 euro? Perché perdiamo i denti? Questa è la prima domanda che dovresti farti. Perdere i denti non è casualità. Talvolta la causa è un trauma, un incidente stradale, la scarsa prevenzione. Altre volte la causa della perdita di denti è una condizione di predisposizione genetica, chiamata volgarmente piorrea. Il paziente è carente di un fattore, l'interleuchina 1, importante scudo di difesa dagli agenti infiammatori batterici. Alcune categorie di pazienti si ammalano di carie e non hanno possibilità di curarsi. Il problema diventa sempre più grave fino addirittura alla perdita appunto dei denti. Alcuni pazienti hanno condizioni o sindromi che impediscono la corretta igiene quotidiana. Altri soffrono di bruxismo, la odontofobia. Tu pensa a un paziente disabile che trema, che non ha la possibilità di tenere la mano ferma quando lava i denti. I motivi per cui perdiamo i denti insomma sono tanti, ma ciò che lascia stupefatti è che quasi sempre sarebbe stato possibile limitare i danni o prevenire completamente la perdita dei denti. I denti sono un biglietto da visita sociale. Il problema che colpisce i miei pazienti non è un problema che può essere nascosto, come per esempio le emorroidi. Questo disagio si trova in mezzo al viso, come dicevo prima, alla portata di tutte le persone con cui ci si relaziona ogni giorno. Perdere i denti significa avere problemi estetici, avere la piorrea significa avere il fiatto che puzza. Quando parli con le persone queste reclinano la schiena indietro per non sentire il fettore che esce dalla bocca malata. Il paziente che non può curare i denti viene etichettato come poveraccio senza soldi oppure come un drogato dai suoi circoli sociali. I non addetti ai lavori ignorano che, come nel caso della malattia parodontale, la piorrea, la causa sia genetica. E la ragazza che ami inizia a avere repulsione nel baciarti. Il bacio è il termometro dello stato di salute di una coppia. Se hai la bocca a marcia, chi è che ti bacerà mai? Supponiamo che tu abbia di fronte una persona che ti attrae. Questa sbadiglia è nel momento in cui apri e intravedi del metallo ad una protesi che porta in bocca. Pensi che ti bacerebbe ancora o tu la baceresti ancora. Supponiamo che dalla bocca quando parla fuoriesce un odore del tutto sgradevole. A quel punto fai 2 più 2 e in te si rafforza l'ipotesi che abbia qualcosa di strano in bocca. Anni fa lessi di uno studio su come le coppie si selezionano in base all'odore, all'alito, all'odore della pelle. Pare essere un fattore determinante nella selezione del proprio partner. Ma voglio ancora estremizzare di più la situazione. Poi parlo di storie e preoccupazioni reali raccontate dai miei pazienti. Pensi che con l'alitosi avrai mai la donna dei tuoi sogni? Oppure che avrai mai una partner che ti darà i figli che meriti in questa unica vita? La soluzione certo è curare la malattia. Il problema che sta fra te e la soluzione è spesso di 20-40 mila euro da spendere. Ho collezionato preventivi che mi sono stati portati in Moldavia dai miei pazienti di addirittura oltre 44 mila euro. Cifre esorbitanti, quasi proibitive. Ora voglio chiederti qual è il costo che ha tutto ciò a livello nazionale. Il costo è un costo sociale elevatissimo. Lo Stato non risparmia ma perde tanti soldi. Quando un cittadino che non può curarsi e avere le migliori cure si ammala e lo porta magari la malattia a perdere il lavoro questo porta poi una catena di ripercussioni inevitabili sul prodotto interno lordo di un paese. Come poi vedremo nelle puntate più avanti in realtà dare le cure gratuite ai propri cittadini porta sul medio e lungo termine una nazione a guadagnare di soldi. La prevenzione lascia nelle tasche delle famiglie miliardi di euro. Ho conosciuto pazienti rovinati dalle banche. Storie di genitori finiti a mezzo a una strada perché gli avevano pignorato le banche e la casa perché avevano un insoluto dovuto a un prestito incontrato con la banca per delle cure mediche. Tutto questo non dovrebbe essere consentito nel 2017. Spesso in questa società ciò che è lecito ci danneggia mentre ciò che realmente ci aiuta non viene fornito gratis e le soluzioni al sistema malato vengono osteggiate dalla tv e dalla stampa nazionale. Vivi in un paese dove alcol e sigarette vengono venduti illegalmente. Una società ipocrita. Se lo Stato non è con te probabilmente fatti una domanda allora è contro di te. E tu faresti mai crescere i tuoi figli in un ambiente socio-economico che fa di tutto per approfittare di te? Io per questo ho fatto la mia scelta e me ne sono andato da questo paese. Ma chi sono i più colpiti dal problema del dentista caro? I veri invisibili sono i giovani senza lavoro, gli anziani pensionati senza probabilmente in futuro più la pensione, le giovani coppie, famiglie e i disabili. Supponiamo un giovane con più reavanzata. Oggi questa persona ha davanti a sé tre strade. Essere fortunato e avere da parte 40.000 euro per mettere i denti fissi. Ricordo che a oggi la disoccupazione giovanile sta al 50%. Oppure accedere a un prestito con qualche banca o parente. Ripagherà mai questo prestito? E se dovesse restituire la somma, quanti anni della sua vita avrà lavorato solo per poter riavere i denti? E il matrimonio? I figli? La famiglia? Una vita praticamente interrotta da un problema genetico? Mettersi l'alternativa 2, due dentiere di plastica mobili alla ASL. Gli anni passeranno e con gli anni perderà anche l'osso necessario per rimettere poi i denti fissi. Il risultato? Un giovane con due dentiere mobili in bocca senza la possibilità più di riavere i denti fissi. Quali risvolti psicologici e ripercursioni sui rapporti sociali? La terza opzione sarebbe quella di orientarsi all'Europa e andarsi a curare all'estero. Presso un policlinico come il nostro. Supponiamo ora un anziano senza più i denti, un pensionato con 600 euro al mese, ai quali l'unico piacere che è rimasto è quello di mangiare. A una certa età mangiare e nutrirsi è l'unico piacere che resta nella vita. Lasceresti mai i tuoi genitori in uno stato di indigenza? Ogni lavoratore paga mediamente più di 100.000 euro di tasse alla nazione durante la propria vita. I materiali per ricostruire integralmente una bocca ammontano circa 6-7.000 euro. Per quale motivo al lavoratore che ha pagato le tasse non vengono riconosciute le cure sanitarie della bocca? Ci sono decine di studi scientifici riguardanti l'impatto che comporta la difficoltà di alimentazione sulla qualità della vita dell'anziano. Tutti, prima o poi, con un po' di fortuna, arriveremo alla terza età. Provo tenerezza e rabbia quando vedo un anziano che è indifeso e umiliato nella dignità dallo Stato. Quando vedo quei servizi alla TV degli anziani che fanno la fila alla Caritas per poter avere un pasto. Ragazzi, svegliamoci. Questa è una guerra contro lo Stato per riottenere i nostri diritti umani. Guardo e penso se loro fossero i miei genitori, questi anziani, e dopo tutto quello che hanno fatto per me in questa vita, dopo tutte le energie spese per lo Stato, le rughe sul loro volto, ogni ruga un sacrificio, e noi impediremo mai a queste persone di nutrirsi, questo è maltrattamento, violenza, tortura. Specialmente nel momento in cui queste persone hanno pagato i contributi e queste persone stanno chiedendo di avere il diritto a nutrirsi in età senile, nell'anzianità. Nutrirsi non può essere un lusso. Ai miei genitori non impedirei mai di non potersi nutrire. Un'altra categoria a rischio sono le giovani coppie. Ho conosciuto l'anno scorso un uomo di soli 40 anni che ha divorziato per il dentista. Questo ragazzo aveva la piorrea, era entrato dentro a una catena franchising in Italia, gli fu presentato un piano di cura con relativo preventivo totale 44.500 euro per mettere 8 impianti dentali sopra e 8 sotto e tutti i 28 denti mancanti, in metallo ceramica tra l'altro. Questa persona, essendo precario, non aveva questi soldi e il commerciale di turno di queste società private che fanno business dell'odontoiatria si attivò per fargli accendere un prestito con busta paga della moglie, tra l'altro. Dopo due anni non ha più potuto onorare la finanziaria che aveva acceso, il prestito, e la moglie aveva perso il lavoro. Dopo un anno non avevano più soldi né per i loro due figli né per mangiare. Dopo poco poi hanno divorziato, sono separati. Oggi la proprietà della loro casa appartiene alla finanziaria. Praticamente tutto questo non sarebbe mai successo se non avessero acceso quel mutuo, quel prestito. Una famiglia distrutta. La beffa è che lo Stato doveva garantire loro la salute, invece è stato complice. Non ha dato loro la soluzione, il prestito versato al centro medico è stato regolarmente tassato. Quasi la metà delle tasse, dei soldi pagati in tasse. Dunque parte dei soldi per i quali avevano acceso il prestito erano andati poi nelle tasche del fisco dello Stato. Chi ha vinto? Chi ha perso? La vergogna è che accendersi un prestito con gli strozzini è legale. Alle banche dovrebbe essere proibito di lucrare e prestare soldi a chi si trova in difficoltà di salute fisica. Come vedremo più avanti nelle prossime puntate, ciò che conosci e accetti della società moderna dovresti metterlo in discussione. A oggi la soluzione della ASL non c'è. Tutti sappiamo le liste d'attesa del sistema pubblico e anche se farai la fila nel frattempo i denti continueranno a marcire nella bocca, quindi la malattia peggiora. Per mesi dovrai dormire con i dolori, nel frattempo i denti che si sarebbero potuti salvare saranno da tirare via. Alla fine arriva, ricorda il tuo turno e ti viene proposta come soluzione moderna una bellissima dentiera di plastica, mobile. Per onestà intellettuale, alcuni reparti di alcuni ospedali offrono l'implantologia in Italia. Ma poi se si vuole protesizzare gli impianti, e qui non dico altro. Il sistema pubblico deve insomma essere un sistema 5 stelle, non un finto sistema pubblico. Per la mia opinione, pubblico e privato non possono coesistere. O meglio, se un medico fa pubblico, ripeto, non può fare privato. E siccome tutti i medici hanno amici medici, anche impedendo a questi di fare privato, ciò non impedirebbe di passare biglietti da visita e di rotare pazienti in studi medici privati di colleghi. Sarò estremista, ma in cuor mio penso che dovrebbe essere impedito a un medico di curare esseri umani a pagamento. Faccio spesso l'esempio del parroco. Sarebbe strano un parroco che chiede soldi per una confessione? Certo che sì. E' un politico che vorrebbe soldi per fare il suo lavoro? Certo che sì, anche quello sarebbe strano. Perché non è strano che un medico abbia un listino prezzi? Alcune figure non possono essere una professione. Alcune sono attività che si devono fare per vocazione. Fare il parroco, il medico, il politico, il volontario, il croce rosino dovrebbe essere una vocazione. Rifletti attentamente sopra questo punto. Uno Stato che offre a un giovane la dentiera di plastica non può essere considerata una nazione moderna. Quando si parla di turismo dentale bisogna partire da un'idea della dimensione del movimento dei pazienti nel mondo. Gli europei si curano nell'est Europa. Per esempio gli americani in centro e sud America. Gli australiani si curano invece in Thailandia. Il turismo medico e nello specifico quello dentale fanno parte di un fenomeno che coinvolge da oltre vent'anni tutto il mondo. E' un modo alternativo di acquistare servizi che delle volte sono troppo costosi nel proprio paese ma non in altre nazioni. Definirlo turismo sanitario in realtà è scorretto. Solitamente faccio questo paragone. Cioè se una persona dovesse curarsi a New York e fosse originaria di Boston sarebbe allora quello turismo sanitario? Oppure supponiamo che tu viva a Milano. Capita spesso di avere il dentista in un'altra città. Magari Bologna o Roma o Torino. Allora chiediti in questo caso staresti comunque facendo turismo dentale? Oppure prova a immaginare un dentista che vive e lavora a Milano. Pensi che nel suo studio non sia mai entrato un paziente di un'altra nazione? In quel caso avrebbe fatto turismo dentale il dentista italiano? Oppure un dentista di Londra magari in questo momento sta installando impianti dentali che sono stati fabbricati a Modena? Probabilmente i suoi colleghi lo ritengono un medico che sta facendo turismo dentale. E tu? E' questo turismo dentale secondo te? In realtà ti ho fatto questi esempi per capire che il turismo dentale è un modo di definire il fenomeno sbagliato. Semplicemente si parla di delocalizzazione di servizi, di cure trasfrontaliere. Cure per cui l'Europa ha persino emesso delle direttive che debbono garantire al cittadino europeo il diritto a potersi curare ovunque esso non trovi difficoltà economiche o liste d'attesa. Per come la vedo io il mondo è sempre più piatto ed è facile fare arena con i temi di attualità schierandosi contro il cambiamento in nome della sicurezza del made in. Le distanze sono oggi annullate dai voli low cost che coprono la distanza per esempio Milano-Chicina in un'ora e cinquanta minuti spendendo 80 euro andate e ritorno. Tre in Italia, da Roma a Milano ci impieghi 4 ore e spendi la stessa cifra. La crescita del fenomeno nel mondo è enorme. Ci sono portali dedicati alle cure trasfrontaliere, centinaia di società, di agenzie e viaggi che organizzano questi viaggi. Deloitte l'ha stimato come un fenomeno in crescita fino al 32% per ogni anno. Così come negli Stati Uniti la telemedicina da anni è comunemente accettata, anche in Europa gli anni futuri sarà sempre più normale essere visitati a distanza. Per mezzo di un attacco tridimensionale condivisibile in cloud, con internet, magari con un'altra equipe. Chi ti visita non è necessariamente chi ti curerà. Un dentista che vive a Parigi potrà fare diagnosi su un paziente che vive a Cagliari. Simulare la chirurgia computer guidata senza neppure ancora aver visto il paziente. Il dentista che riceverà le impronte scansionate digitalmente con il laser presso un studio di un loro dentista di quartiere. Progetterà la chirurgia ed invierà la programmazione chirurgica digitale per email. Questo dentista stamperà poi per mezzo di una stampante 3D la guida e eseguirà la chirurgia. Esistono oggi stampanti laser 3D o che sinterizzano i metalli, la polvere del titanio e si abbattirà di 100 volte i costi dei materiali. Ci sono già fabbriche che stanno producendo impianti dentali dalla polvere di titanio. Le protesi verranno spedite con DHL oppure stampate in sede. I costi abbattuti fino al 90%. La tecnologia sta annullando le distanze. Oggi acquistiamo prodotti su Amazon senza neppure uscire di casa. In un futuro non troppo lontano ci verranno recapitati a casa con i droni volanti. Anzi, già lo stiamo vedendo. Il VoIP ci permette inoltre di poter comunicare con il nostro paziente che si trova a migliaia di chilometri di distanza in caso di problemi. Questa è la rivoluzione dei mestieri, delle professioni, della sanità, della mobilità, la rivoluzione industriale 4.0. Da poco in Italia ha persino avuto luogo la prima fiera sul turismo medico per promuovere le eccellenze italiane nel mondo ed attrarre nel bel paese pazienti esteri. Non si capisce da che parte ci si debba schierare, a favore o contro questa rivoluzione. Sui media la si combatte. Poi in realtà ne si vorrebbe far parte. L'impressione è un po' come tutte le innovazioni che queste debbano passare tre stadi. Il turismo dentale non esisterà più in futuro. Sarà normale curarsi in Europa, come ti dicevo. Nel nord Europa curarsi all'estero è normale. I grossi cambiamenti e in genere devono passare, come ti dicevo, queste tre fasi. Prima vengono ridicolizzati, durante la seconda fase vengono combattuti e una volta giunti alla terza e ultima fase sono ampiamente accettati e condivisi, se non per dire di moda. La stessa cosa in Italia avvenne per il Movimento 5 Stelle, per esempio, oppure per il fenomeno Uber. Le stesse difficoltà ci furono con l'introduzione dell'elettricità alternata in America. La storia insegna. Innovazione contrapposta ai difensori dello status quo. Nel Regno Unito il turismo sanitario è già in terza fase. Nel momento in cui scrivo questo libro e produco questi video informativi esistono più di 150 agenzie che si occupano di turismo medico. I prossimi anni ne vedrai fiorire tantissime anche in Italia. Il fenomeno del turismo dentale in altre nazioni, insomma, si trova tra la prima e la seconda fase, come in Italia. È solo una questione di tempo e di diffusione delle informazioni. Il Policlinico che ho fondato è nato come progetto con lo scopo di accelerare questo processo. L'informazione rende liberi. Basterebbe dire a un africano che basterebbe mettere sul tetto della propria casa la bottiglia d'acqua sotto al sole almeno 48 ore per evitare di morire di disenteria. Le informazioni, grazie a Internet, contribuiscono al cambiamento dell'opinione pubblica riguardo ai temi delle volte scomodi alle lobby. Sdoganano grandi nuove verità o mercati. Le informazioni talvolta evitano le persone di indebitarsi con una banca. Quando si parla di turismo sanitario e ci troviamo in prima fase e vieni quindi deriso, chiediamoci perché non si ride di fronte a un listino prezzi di un medico. E se invece ci troviamo in seconda fase e cerchiamo quindi di combattere il fenomeno, perché invece non si combatte con lo Stato che obbliga i medici a sopravvivere sulle spalle dei cittadini con parcelle e fatture per le quali poi alla fine il 50% si prenderà lo Stato stesso con le tasse. Perché i medici non devono essere pagati dalle tasse? Perché le cure mediche non devono essere invece esentasse? E ancora, nel caso ci trovassimo nella terza fase in cui il fenomeno è largamente accettato e condiviso, perché non ci indigniamo, non si scende in piazza a protestare contro un sistema ladro, la nazione che ci ha fatto pagare per anni le tasse rinnegandoci poi il diritto alla salute. Ogni euro versato dei nostri contributi è sparito per sempre. Il fenomeno delle cure sanitarie all'estero nasce quando paesi ricchi sono stati messi in contatto con paesi poveri grazie a internet. Allora, come il mare, se metti a contatto economie calde con economie fredde, si creano delle correnti, correnti di consumatori. Nascono i cosiddetti turisti dentali. Questo è un fenomeno del tutto normale. L'automobile che oggi guidi probabilmente non è stata progettata magari nella tua nazione, ma è stata prodotta completamente in un altro paese. Oppure è come gli abiti che indossi, magari progettati in Italia, ma prodotti in Cina. I format dei programmi televisivi che guardi. Il prezzo però, quello è tutta un'altra cosa. Sono comunque prezzi del tuo paese. E in più ti ricordo lo Stato che lucra con le tasse sopra le cure sanitarie. I dottori che riescono a entrare nelle facoltà a numero chiuso dopo la laurea spesso vanno a specializzarsi all'estero. Molti studenti per anni non sono riusciti a passare le selezioni in università italiane e magari vanno a studiare odontoiatria in Romania, Albania a 3-4 mila euro all'anno. Dopo 5-6 anni sono a tutti gli effetti dentisti europei e possono persino tornare in patria a lavorare nello studio di papà. Poi il papà, parlando magari con i propri pazienti, scoraggerà ad andare a curarsi in quei paesi dove magari i loro figli hanno studiato e preso la laurea. Esiste per esempio a Tirana una università privata dove tutto questo accade. Cosa è quindi il Made in Italy? Chi ci obbliga a consumare il Made in Italy? È realmente poi Made in Italy dal momento che gli impianti dentali sono prodotti in Svizzera, Germania, Israele? Magari i dentisti non sono dentisti italiani ma sono dentisti comunitari della comunità europea. Se in Moldavia un paziente viene curato con impianti dentali o curato su poltrone realizzate, costruite in Italia e il lavoro è stato studiato e progettato e realizzato da un'equipe di medici europei si potrebbe definire la provenienza di queste cure? Il fatto che ti curi sotto casa non significa che verranno utilizzati solo materiali locali e viceversa il fatto che ti curi all'estero non significa che verranno utilizzati materiali esteri. Probabilmente saranno materiali anche prodotti nelle fabbriche del tuo paese. Parlare di Made in oggigiorno ha sempre meno senso e sempre meno lo sarà in futuro. In definitiva saremo sempre meno pazienti italiani e sempre più pazienti europei. Rifletti su tutto questo. L'organizzazione del mondo del lavoro ha subito una rivoluzione con pesanti ripercussioni sulla economia delle società moderne. I vecchi mestieri dell'era industriale sono oggi mestieri che vivono la crisi più grande. Crisi non vuol dire che un mestiere non sia più valido ma semplicemente che sia cambiato. Potrei fare l'esempio dei giornalisti. Il giornalista di 40 anni fa non è il giornalista di oggi. Il mondo e l'ambiente in cui lavora sono enormemente mutati. Oggi chiunque può aprire un blog e iniziare a scrivere al mondo. È possibile farsi una cerchia di affezionati lettori e far arrivare a loro aggiornamenti costanti. Facebook stesso è una piattaforma di social news. Chiunque è un produttore di contenuti testuali, foto oppure video. Non leggiamo più le news ma scogliamo il news feed dei nostri amici. Non leggiamo più news globali ma ci interessano invece le news social delle nostre cerchie. L'ordine dei giornalisti non ha più senso di esistere ma tutto sommato non hanno più senso di esistere questo come tanti altri ordini a mio modesto parere. Personalmente infatti ritengo che gli ordini delle professioni dei corporativismi che servivano nell'era industriale a proteggere la professione i professionisti con l'avvento dell'era dell'informazione di internet questi equilibri statici e conservatori hanno ceduto invece il passo a squilibri dinamici dell'innovazione. Grazie alla semplicità di reperire informazioni da fonti alternative oggi non è più necessario far parte del mainstream per vivere al mondo. Questa è una crisi dell'intero sistema. Come dicevo crisi significa cambiamento. Tutto il sistema delle professioni è cambiato. Il sistema della produzione degli oggetti il sistema dei servizi è completamente diverso rispetto a decenni fa e la frattura aperta tra conservatori e innovatori non è mai stata così profonda. Mentre ti parlo abbiamo appena lanciato da qualche giorno una pubblicità su internet per la telemedicina. Abbiamo mandato sul territorio italiano la proposta per odontotecnici di collaborare con il nostro centro produzione qua in Moldavia. La risposta 20 richieste in sole 4 ore. Abbiamo dovuto fermare la pubblicità. Un nuovo modo di produrre e consumare. Centri di produzione delocalizzati al di fuori dei confini nazionali e centri di assistenza locali. Il futuro appartiene agli innovatori e a chi sa cogliere l'innovazione. Con le cure trasfrontaliere o turismo sanitario si apre una nuova opportunità che mai era stata possibile fino ad oggi. Tutto ciò senza informazione non sarebbe stato possibile. Internet ha cambiato il mondo. Internet ha reso questo possibile. Internet come ti dicevo permette di reperire qualsiasi genere di informazione e le informazioni fanno risparmiare tempo soldi fatica guadagnare vantaggio esperienza o trovare la soluzione al tuo problema. Ricordo ancora quando ero un ragazzo ero appassionato di film per esempio noleggiavo un film al giorno spesso andavo al cinema di tanto in tanto pescavo la fregatura tutto cambiò un giorno che trovai un sito web chiamato FilmUp dove era possibile leggere le recensioni dei film scritti da chi aveva già visto il film mai più fregature da quel giorno al cinema continuavo ad andare sì ma guardavo solo i film con ottime recensioni della critica questa si chiama intelligenza collettiva chi ha già fatto esperienza di un qualcosa di un servizio già acquistato un prodotto può lasciare una traccia sulla rete utile per chi verrà dopo di lui un esempio di questo può essere per esempio il gps ti sei mai chiesto come fa la mappa del tuo gps a indicarti il traffico presente qualche isolato più avanti semplicemente registra la velocità dei veicoli che avevano il gps attivo su quel tratto di strada che hanno percorso qualche minuto prima o stanno percorrendo proprio in quel momento quel pezzo di strada oggi la garanzia non conta più nulla dico sempre nel mondo di internet solo i film con le migliori recensioni sbancano al botteghino stessa cosa vale per i servizi e i prodotti la garanzia era un qualcosa che serviva negli anni anni fa quando non esisteva la recensione in quegli anni era necessario un dentista che garantisse la qualità del servizio prodotto non c'erano le recensioni oggi questo non è più utile se hai un problema vale molto di più una recensione le aziende moderne questo lo sanno appena sorge un problema rimediano con il loro centro assistenza questo è il potere del mondo dell'informazione nell'era della reputazione mai come prima i servizi erano costruiti attorno all'utente finale oggi un utente non vale più uno ma mille forse diecimila il suo giudizio vale molto è in grado di muovere l'opinione di molti pazienti o potenziali consumatori verso un acquisto futuro internet ha reso in definitiva il mondo molto più piatto è possibile venire a conoscenza di servizi che permettano di risparmiare fino al 90% oppure è possibile acquistare prodotti sotto costo che stanno dall'altra parte del mondo è possibile fare tutto questo con un click in definitiva internet ha permesso di trovare in maniera più semplice il servizio giusto al miglior prezzo la rete non è stata solo una evoluzione del modo di acquistare e consumare servizi innanzitutto è stata a mio parere una rivoluzione del modo di lavorare e non ultimo di pensare come ho descritto poco prima siamo stati messi di fronte al cambiamento dei mestieri oggi il dentista serve non più pazienti della propria città ma come è stato nel caso del policlinico che ho realizzato in Moldavia abbiamo pazienti da più di 5 nazionalità arrivano persino dall'America dall'altra parte del mondo una rete ha permesso di scambiare dati ed informazioni in tempo reale azzerando le distanze con un messaggio whatsapp è possibile inviare una radiografia al proprio medico dall'altra parte dell'Europa e verificare l'andamento della guarigione oppure pianificare in cloud la chirurgia in pochi secondi riceviamo al nostro centro produzione file di impronte che sono state rilevate dall'altra parte dell'Europa con dei software e ci vengono inviate via internet e possiamo poi andare a produrre in 3D fisicamente oltre questi grandi cambiamenti nel mondo dei mestieri e delle professioni non si può non notare come sulla rete sia oggi semplice creare movimenti consumatori ed aggregare la domanda di servizi specifici è possibile incontrare in piazze virtuali persone che la pensano come te che hanno gli stessi ideali gli stessi desideri o addirittura le stesse passioni in questi luoghi che non esistono si incontrano persone reali che possono dare inizio a rivoluzioni e nuovi modi di fare lavorare e di agire realizzare prodotti o servizi in questo mondo iperconnesso il movimento 5 stelle in Italia è stato uno dei primi casi al mondo che ha dato manifestazione della potenzialità della aggregazione digitale pensieri e persone che si sono aggregate hanno fatto massa critica in un luogo virtuale e che hanno poi generato cambiamenti reali e misurabili poi nella società nel modo di pensare della società stessa cosa è accaduta anni fa per la crisi del nordafrica la primavera araba rivoluzioni che hanno portato al ribaltamento di governi e dittature e tutto questo è nato su twitter ogni innovazione o nuovo modo di pensare della società deve passare dallo stadio di inaccettabile allo stadio di popolare ed infine legalizzato o comunemente accettato prova a pensare a come veniva ridicolizzato il fenomeno dei 5 stelle all'inizio oggi ci troviamo in terza fase e questi si trovano al parlamento stessa cosa avviene per il fenomeno delle cure trasfrontaliere nel mondo in nord Europa in America e anche in Australia ci si trova in terza fase in Italia diciamo ci troviamo più o meno in seconda fase tra 5 anni sarà del tutto normale avere il proprio cardiologo a Parigi il proprio dentista in Moldavia oppure avere il proprio chirurgo plastico a Dubai la rivoluzione dell'informazione che ha portato il mondo a essere più piatto i consumatori più vicini ai servizi delocalizzati è stata confusa ed etichettata con la parola sbagliata come crisi per anni è stato passato il concetto l'Europa ed il mondo stessero entrando in un periodo e momento storico di grande recessione e crisi dei mercati la vera crisi a mio parere è quella dei valori e l'impreparazione della società a cogliere il positivo del cambiamento e questo porta povertà e difficoltà alla grande fascia media della popolazione il non essere stati istruiti dal sistema scolastico studiato appunto per l'era industriale a muoversi in maniera scattante in questa nuova era dove i mestieri scompaiono i servizi mutano e nuovi modi di consumare e produrre prendono lo spazio dei vecchi quando vai dal dentista per dover mettere una capsula protesi o simulazione di un dente il dentista deve seguire tre passaggi primo prendere il calco del tuo dente rovinato con un gel da impronta secondo inviare il calco ad un laboratorio dentale che realizzerà poi la protesi e terzo installare il tuo dente o la protesi che riceve indietro dal tecnico laboratorio nella tua bocca oggi al nostro policlinico in Moldavia prendiamo l'impronta con un sensore digitale che fa una scansione laser del dente rovinato inviamo il file alla stampante 3D che in 5 minuti stampa la protesi infine la prendiamo e la posizioniamo sul dente che è stato modificato nella bocca del paziente hai notato qualcosa di diverso tra questi punti che ho elencato hai notato come l'odonto tecnico sia scomparso questo è il concetto di quello che sta accadendo nel mondo su larga scala non si tratta di crisi ma di rivoluzione ed accorpamento e accentramento dei servizi un altro esempio che potrei farti è quello che sta accadendo da anni nel mondo della ristorazione con TripAdvisor o della mobilità con Uber o ancora dell'acquisto dei prodotti con Amazon pochi assopiglia tutto che hanno fatto da magnete intercettando più del 90% della domanda mondiale Steve Jobs per primo aveva notato come nell'industria digitale ci fosse un rapporto di 40 a 1 tra chi aveva successo e chi invece falliva aveva osservato che per un'azienda di successo ce ne saranno almeno 40 di sicuro fallimento questo era dovuto al fenomeno della review o recensione quei pezzetti di informazione quelle tracce lasciate dai consumatori che direzionano l'acquisto dei potenziali acquirenti successivi il rapporto con l'avvento di internet si è esteso a tutti i settori questo rapporto oggi prima di acquistare qualunque cosa gran parte delle persone apre lo smartphone e si informa in passato si acquistava per prossimità vicinanza per passaparola oggi basta semplicemente andare su internet e guardare la recensione questo non avviene più dunque se mi chiedi come dentista è vero che esiste crisi nel tuo settore la risposta la conosci la risposta è no oggi i pazienti non si ammalano meno semplicemente hanno cambiato posto dove si vanno a curare qua al nostro policlinico in Moldavia abbiamo inaugurato quest'anno 14 poltrone chirurgiche in più probabilmente in Italia questo stesso mese hanno chiuso 14 studi dentistici magari nella sola città di Roma esiste un bellissimo codice che è stato scritto tanti anni fa che si chiama il giuramento di Ippocrate il cui primo punto recita giuro di svolgere il mio ruolo in totale libertà indipendenza e imparzialità l'ho riassunto perché in realtà è un po' più lungo questo è un bellissimo codice realmente conserva all'interno quella che è l'essenza che dovrebbe essere del medico del professionista come viene chiamato delle cure sanitarie che sia odontoiatra dentista o che sia un medico di qualsiasi branca questo se lo si legge è un codice che è sempre verde e se lo si legge con attenzione ci si rende conto di quanto si è deviata la professione negli ultimi anni questo è un codice che spesso neanche viene insegnato nelle università all'interno di questo codice viene raccolta quella che dovrebbe essere l'etica medica l'imparzialità sia dal punto di vista della diagnosi e anche dell'esecuzione e scelta quindi anche delle terapie da eseguire è un qualcosa che non può essere turbata voi immaginate di andare per esempio dall'elettrauto e l'elettrauto prima di fare un intervento sull'automobile deve verificare qual è il problema dell'automobile in tutte le professioni esiste un conflitto di interessi di cui nessuno parla ed è il fatto che chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che poi si prende i soldi come nel caso dell'elettrauto se lui ha necessità di magari spingere una diagnosi piuttosto che un'altra approfittando del fatto che tu non conosci tanto di elettronica e di automobili potrebbe falsare la diagnosi per poi farti accettare un preventivo un piano di lavoro che non è poi quello di cui realmente hai bisogno per continuare a utilizzare l'automobile questo posso assicurarti che succede anche in medicina da anni io mi domando quale fosse l'origine di tutti i mali molti a me chiedono in cosa ti sei specializzato io mi sono specializzato negli anni nella cura non delle carie o di per sé dei denti ma mi sono specializzato nella cura del sistema che genera la malattia della bocca ovvero il sistema salute pubblico che non funziona il sistema medico così come è regolamentato il sistema medico così come non è controllato produce tutte quelle distorsioni di conflitto di interesse che portano i malati a non poter accedere alle cure o se ci accedono alle cure rischiano di entrare dentro a quello che è il conflitto di interessi della sanità dal momento che un medico è giovane e si trova all'università fa corsi congressi che sono sponsorizzati con miliardi di euro a livello mondiale dalle case farmaceutiche le stesse che producono i materiali che vengono utilizzati per le chirurgie le stesse che magari regalano al medico il kit da utilizzare per l'installazione di magari certe valvole aortiche oppure impianti dentali ti posso assicurare che ci sono case di impianti dentali che se fai i corsi della loro sistematica ti regalano il kit per la loro sistematica oppure ci sono gli informatori farmaceutici che girano gli studi medici e propongono determinati farmaci piuttosto che altri in cambio in cambio magari di un regalino che viene fatto al medico che può essere un corso d'aggiornamento è comunque questa una turbativa di quella imparzialità medica che sta alla base del primo articolo del giuramento di ipocrita fa ridere quando sento un medico che giura di operare nella più totale imparzialità porre poi al malato un listino prezzi delle sue prestazioni d'opera è un conflitto di interessi ripeto di cui non parla nessuno è il conflitto di interessi di cui io se andassi in televisione di fronte agli ordini dei medici parlerei non è una questione di quanto minimo possa essere il listino prezzi ma è etico avere un listino prezzi è etico far pagare a un paziente che ha già pagato fior di mila euro durante la sua vita con le tasse a uno stato ladro una terapia medica che dovrebbe essere garantita dalla costituzione come gratuita ti assicuro che quando un medico cresce in un ambiente universitario dove vengono spinte certe marche di impianti dentali pensa che quelle marche di impianti dentali siano migliori di altre marche di impianti dentali e si dimentica quello che realmente conta ovvero che nel successo di una terapia esiste prima di tutto la diagnosi corretta la diagnosi corretta è già mezza terapia quando si fa una diagnosi corretta che non è quindi turbata dalle vicissitudini personali o dalla necessità di pagare le tasse a uno stato che tassa anche i medici la salute due volte viene tassata come le pensioni allora se si ha una diagnosi che non è imparziale che non è libera da questo possibile conflitto di interessi rischia anche la terapia di essere una terapia ben eseguita ma in realtà non necessaria proprio da poco leggevo su internet che il 28% dei dentisti in Svizzera trova sempre una carie hanno fatto uno studio dove hanno fatto andare dei pazienti sani dal dentista in Svizzera nonostante il paziente fosse sano trovava sempre una carie 28 dentisti su 100 è stato uno schema questo di servizio che è stato fatto qualche tempo fa su striscia la notizia dove un paziente veniva fatto andare in più studi dentistici ed erano per lo più catene odontoiatriche per far vedere proprio che laddove è ancora più forte questo conflitto tra necessità di fatturare e trovare malattie su un paziente queste catene franchising trovavano delle terapie fantasma non necessarie e approfittando dell'ignoranza del paziente venivano venduti dei trattamenti con finanziaria non necessari è da qui da questo conflitto di interessi che nasce tutto il marcio a mio parere il giuramento di Pocrate è quello a cui si dovrebbe tornare e applicarlo quando iniziai questo mio percorso ho scoperto che la causa di questo conflitto di interessi era proprio il listino prezzi delle terapie allora mi chiedevo come potesse essere ribaltato questo sistema la soluzione è proprio la causa del problema dovrebbe essere eliminato il listino prezzi immaginate un medico che non ha un listino prezzi fa la diagnosi corretta perché tanto verrà pagato dallo Stato per le terapie che esegue su di te i materiali glieli fornirà lo Stato perché lo Stato col suo prodotto interno lordo può costruire domani le fabbriche di impianti dentali propri nazionali e fornirli gratuitamente al medico e restituire e in base alle terapie che fa un medico ripagare quel medico con stipendio statale secondo magari un punteggio come l'NHS in Inghilterra allora il medico farebbe una diagnosi priva di conflitto di interesse e sapendo di poter utilizzare i migliori materiali senza dover mettere di tasca propria quelli che sono i soldi per anticipare l'acquisto di questi materiali ti assicuro che il medico non opererebbe ogni giorno strozzato dal sistema tassativo del paese operando delle scelte terapeutiche che servono a incontrare quello che è il budget di spesa e possibilità di spesa del paziente magari terapia che non è magari quella ideale però è quella che si può permettere il paziente non si può scendere a compromessi nella salute o scendere di qualità di materiali da utilizzare perché un cittadino che paga le tasse non ha abbastanza soldi per potersi permettere i migliori materiali questo è un po' come la cura per l'epatite C se oggi esiste il miglior metodo il miglior materiale il miglior vaccino lo Stato lo deve dare ai propri cittadini gratuitamente fare talk show su dentisti low cost contro dentisti che hanno un listino prezzi calmierato oppure vedere su internet delle petizioni che vogliono lanciare i minimi tarifari mi trovavo a Malta quel periodo quando lessi su internet che c'era questa petizione si chiamava la petizione si chiama c'è ancora sul web la petizione triestino di un dentista che ha sollevato il problema delle cure a prezzi troppo bassi in Italia e allora coro tutti quanti dietro a firmare tutte le associazioni di categoria a promuovere questa petizione come giusta ma lì ci si dimenticava troppi medici si sono dimenticati che la questione non è quanto debba essere il minimo tarifario lì non si sta facendo l'interesse del paziente se realmente si facesse l'interesse del paziente bisognerebbe lottare tutti quanti per l'abolizione dei prezzi per l'abolizione dei listini per l'abolizione dei tarifari e bisognerebbe andare in Parlamento e chiedere di essere pagati dallo Stato non dai cittadini dai malati io non voglio prendere soldi dal malato io voglio che lo Stato mi riconosca la professione che sto facendo per vocazione di utilità sociale pubblica e mi paghi per questo perché è lo Stato che mi ha formato all'università dandomi le conoscenze per poter curare le persone e mettendo queste conoscenze che sono frutto di millenni di avanzamento della ricerca quindi parliamo di patrimonio dell'umanità la scienza è il patrimonio dell'umanità quando la metto al servizio dei cittadini io non posso essere obbligato dallo Stato a applicare un tarifario minimo oppure applicare un tarifario è lo Stato che deve rifondere le mie spese per quello che sto facendo e il cittadino non deve essere obbligato dallo Stato o aspettare mesi di liste d'attesa facendo peggiorare quella che è la problematica c'è gente che marcisce con gli organi che devono trappiantare in corpo perché ci sono liste d'attesa questo fa schifo in uno Stato che dichiara di essere uno Stato moderno occidentale industrializzato una delle prime potenze mondiali bisogna riflettere su quello che è il ruolo del medico nella società riaprire rispolverare il codice che aveva scritto Ippocrate tanti anni fa e ridefinire quella che è la utilità sociale del medico che in tutte le sue branche nessuna è esclusa io non voglio pagare due volte con i soldi dei pazienti lo Stato anni fa me ne sono andato dall'Italia proprio per questo motivo non potevo aver studiato tutti quegli anni aver investito così tanto tempo per non essere aiutato poi dallo Stato ho versato tanti soldi in tasse e da poco ho richiesto all'Empam che mi venissero resi i soldi in quanto io me ne sono andato dallo Stato Italia mi ha risposto e quei soldi li rivedrò dopo i 67-68 anni non vigilare sulla qualità dei professionisti delle terapie erogate o delle prestazioni che vengono erogate non solo da medici e dentisti ma anche da altri professionisti che si trovano in altri settori a un costo veramente alto il costo di cui parlo non è quello prettamente economico ma il costo biologico di dover reintervenire su situazioni che erano già complesse dei disastri sul quale chiunque avesse messo mano sicuramente si sarebbe trovato in grossa difficoltà genera delle persone che avranno degli esiti che sicuramente non saranno performanti come se avessero operato su un caso che era in uno stadio iniziale la prevenzione è quello che manca in molti paesi europei parlo di prevenzione a livello di cosa pubblica di problemi pubblici parlo di prevenzione in ambito sanitario parlo di prevenzione per esempio del crimine oppure delle emergenze perché si arriva alle emergenze si arriva perché chi deve vigilare non c'è oppure chi deve vigilare c'è ma chiude un occhio delle volte anche due occhi perché nelle emergenze si può lucrare di più delle volte nelle emergenze possono essere utilizzate delle tesi che fanno leva sul dolore oppure sulla scarsità di tempo oppure sulla impossibilità a poter mangiare occorre vigilare sulla qualità di chi eroga prestazioni sanitarie come prestazioni di altro tipo quando io apro il computer ogni giorno ricevo almeno 10 radiografie di persone che non possono permettersi le cure nel proprio paese a causa dei costi elevati allora iniziano a cercare su internet delle soluzioni alternative al proprio paese e vanno a finire in Moldavia dove ho strutturato il Policlinico con i prezzi più bassi d'Europa e riceviamo tutte quelle richieste dei casi che costerebbero delle volte anche più di 40.000 euro poterli risolvere non è normale vedere le cose che io vedo quando io vedo dei danni come quelli che ci sono dentro alle lastre che mi arrivano mi faccio sempre una domanda mi chiedo ma come è stato possibile arrivare in questo stadio il motivo è che forse o non c'è stata la prevenzione oppure non c'è stata la possibilità di accedere alle cure oppure ci sono dei pazienti che hanno potuto fare prevenzione ma non sono stati poi controllati fatti dei follow up dei controlli semestrali obbligatori magari perché lo stato ti obbliga ad andare dal medico appena perderesti la copertura sanitaria oppure sono stati curati male quella che viene definita mala sanità questa è la radiografia di un paziente che ha dovuto togliere tutti i denti e gli sono già stati installati degli impianti dentali gli sono stati installati impianti dentali con ancora la malattia in atto la malattia parodontale sulle radici sono state lasciate delle radici vicino agli impianti dentali si sono propagate le infezioni agli impianti dentali se io vado a vedere le sezioni di questo caso vedo impianti dentali che sono stati messi al di fuori dell'osso non c'è stata una logica nell'inserimento ti assicuro che casi come questo ne ricevo una decina al giorno sono pazienti non che stanno perdendo i denti ma sono persone che hanno perso la fiducia nei medici anche qua vedo un impianto dentale che sta praticamente dislocato al di fuori dell'osso vedo lastre dove ci sono impianti dentali uniti con radici naturali questo non rientra nei protocolli internazionali vedo pazienti che vengono trattati come clienti ovvero gli vengono fatti dei preventivi che non sono risolutivi si cura solo una parte della bocca e si lascia stare tutto il resto dicendo che quando avrai soldi farai il resto la bocca non si può curare a pezzi non si può pensare di mettere lo smalto sopra le unghie di un piene che sta andando in cancrena così si sta solo facendo i propri interessi e non quelli del paziente come io vedo queste lastre sicuramente molti altri professionisti hanno visto queste lastre la domanda che mi faccio io perché non vengono denunciati questi casi di malasanità perché quando un collega esce dai protocolli non fa per venire una segnalazione al proprio ordine sulla cattiva opera del precedente collega fare questo è un grande senso di responsabilità da parte di tutta la classe medica fare questo significa proteggere la propria professione e fare questo significa buttare fuori dagli ordini gli sparachiodi oppure i terroristi che vanno a operare terapie che non sono necessarie o che vanno fatte in tempi diversi l'imperizia non può essere nascosta chi vende trattamenti non necessari deve essere radiato dall'albo perché sta derubando un paziente e sta danneggiando biologicamente una persona vanno a fare talk show su quelli che sono i prezzi bassi chi fa i prezzi bassi vanno contro chi cerca di abbassare i prezzi con delle politiche aziendali ma non vanno invece a occuparsi ma non vanno invece a combattere chi opera fuori dai protocolli per me è una cosa molto più grave perché non è una questione di verificare se una persona sta dentro degli standard di prezzo ma è una questione di verificare se le persone stanno dentro agli standard di qualità in un sistema privato questa è una deriva molto facile dal momento in cui esiste il conflitto di interessi che chi espone listino prezzi e decide o ti dice ciò di cui hai bisogno delle volte quasi sempre anche la stessa persona che poi emette la fattura che deve intascare i soldi quindi è facile correre il pericolo di entrare dentro a delle terapie che hanno un conflitto di interessi di cui abbiamo parlato in altre puntate a me sembra quasi un cartello ovvero stare qui a difendere i nostri tarifari oppure stare qui a difendere la buona condotta la buona qualità delle volte leggo dei comunicati stampa che vengono fatti dagli ordini dei professionisti parlo a 360 gradi di tutti gli ordini delle professioni sembrano quasi politici il linguaggio dei politici è un linguaggio delle volte opposto basta se vuoi capire veramente a mio parere quello che cercano di dire nei comunicati stampa è invertire le parole noi dobbiamo proteggere per esempio i nostri pazienti inverto le parole noi vogliamo proteggere noi stessi se si vuole proteggere veramente noi stessi oppure se si volesse veramente proteggere i pazienti bisognerebbe pensare prima di tutto alla biologia del paziente che va rispettata protetta e tutelata poi anche al portafoglio del paziente non si può sottoporre un listino prezzi per la salute per curare la salute e le malattie dei malati dovrebbero essere date gratuitamente dovremmo noi medici essere pagati dallo Stato e dovremmo lottare per vederci riconosciuto il pagamento dallo Stato delle prestazioni che noi facciamo gli ordini dei professionisti a mio avviso a mio personale parere oggi sono anacronistici dovrebbero essere riformati in dei quality center bisognerebbe iniziare a lottare per fondare sul territorio degli istituti di controllo delle opere che vengono eseguite delle prestazioni delle terapie e dare dei punteggi di qualità questo viene già fatto in alcuni paesi e dovremmo prendere spunto dalla patente a punti a mio parere se tu operi male ti tolgo dei punti finiti quei punti ti rimuovo la licenza e per poter riaccedere alla licenza dovrai risuperare gli esami da capo o almeno l'esame di Stato per verificare che stiano queste persone operando in maniera corretta recidiva radiazione a tempo indeterminato la nostra lotta è nata da una petizione che vedi un anno fa su internet promossa da un dentista italiano che si lamentava per le pubblicità aggressive dei prezzi troppo bassi promossi da alcuni dentisti da alcune catene odontoiatriche che promuovevano impianti dentali a costi troppo bassi fu creata una petizione dove si sollevava il problema per la categoria di questi dentisti che fanno pubblicità promuovendo dei prezzi troppo bassi e con la tesi di difendere la categoria sono state lanciate pubblicamente delle iniziative per regolamentare i minimi tarifari o riportare comunque ai minimi tarifari quando l'essi di questa petizione rimasi sbalordito perché a coro si unirono tutte le associazioni di categoria fu ripresa e ribattuta la notizia dalla stampa ma nessuno veramente aveva fatto il focus su ciò che sarebbe dovuto essere l'argomento realmente da discutere la sanità l'etica nella sanità e quanto fosse etico avere in realtà un listino prezzi se sei un medico la salute è un diritto umano imprescindibile non è un lusso per pochi la sanità privata ha portato un grosso conflitto di interessi all'interno per decenni di cui nessuno ha parlato ovvero il fatto che chi fa la diagnosi è la stessa persona che poi sottopone al malato listino prezzi da pagare da onorare quello su cui dovremo riflettere è che vedere mangiare sentire bere nutrirsi sono un diritto umano imprescindibile che deve essere garantito da tutte le costituzioni di tutte le nazioni del mondo non può essere sottoposto un listino prezzi a un cittadino che già paga le tasse profumatamente al proprio stato per potersi curare uno stato di malattia che come nel caso di chi perde totalmente i denti è su base genetica è una malattia per esempio la piorrea che molte 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 volte è correlata a delle carenze di interleuchina 1 nello specifico che portano il paziente ad essere più suscettibile all'essere attaccato dalle tossine batteriche che si trovano in bocca più l'accesso alle cure è un accesso con un gradino alto quindi ci sono prezzi alti in un paese e meno i pazienti hanno la possibilità di fare prevenzione se sono dei pazienti predisposti a questo tipo di malattia molto probabilmente svilupperanno quell'infiammazione cronica all'interno della bocca che negli anni li porta se non hanno possibilità di curarsi a pagamento a perdere i denti questo a livello statale ha un costo sociale enorme una persona che perde i denti è una persona deabilitata una persona che non può mangiare che non può nutrirsi e l'unica alternativa che ha è rivolgersi alla sanità pubblica fare liste d'attesa forse dopo sei mesi un anno potrà accedere al sistema sanitario pubblico ma la malattia sarà degenerata avrà un danno biologico al proprio apparato masticatorio incalcolabile una bocca sana è un patrimonio e andare a ricostruire una bocca che ha perso tutti i denti con materiali artificiali non restituirà mai al malatto la funzione biologica perfetta che avrebbe potuto avere magari preservando la dentatura naturale quando si promuovono queste petizioni su internet non si fa altro che pilotare l'opinione pubblica verso un argomento che ha un focus sbagliato il focus va spostato non esistono delle tariffe giuste non esistono dei prezzi giusti per la salute i prezzi devono essere quelli dei materiali e se li deve accollare lo Stato e l'opera dei professionisti medici deve essere riconosciuta dallo Stato come una opera di utilità sociale i medici devono essere pagati dallo Stato lo Stato con il suo prodotto interno lordo potrebbe creare delle fabbriche domani stesso non c'è bisogno di aspettare decenni per poter costruire delle fabbriche di materiali di impianti dentali e questi potrebbero essere elargiti ai professionisti sparsi sul territorio che sono convenzionati con il sistema pubblico e il sistema pubblico potrebbe rifondere questi professionisti secondo un punteggio come avviene per esempio in Inghilterra la prevenzione è il vero focus su cui bisogna andare nei parlamenti e discutere non approvare dei minimi tarifari così non si fa altro che proteggere la categoria non i malati se si vuole veramente fare la parte dei malati bisogna lottare assieme ai malati per vedere riconosciuto il diritto alla salute come un diritto umano imprescindibile una persona mediamente paga nella sua vita dai 150 ai 200 mila euro allo Stato ricostruire una bocca di materiali ci possono essere dai 5 agli 8 mila euro è impensabile che una nazione per cui si è lavorato tutti questi anni non possa darci per i pazienti quei 5-8 mila euro per poter curare questi casi che sono dei casi emblema del fallimento sanitario di un paese quando io vedo radiografie di pazienti che hanno perso tutti i denti mi chiedo dove è stata la prevenzione dove è stata l'opera medica di diagnosi e cura della malattia dove è stato lo Stato colpa vada bene non è colpa dei dentisti se i prezzi per curarsi sono alti nel tuo paese la colpa è dello Stato che non offre un'alternativa ai malati lo Stato tassa due volte la salute quando un paziente va dal dentista e paga l'onorario del dentista una buona parte dei soldi che dà sono soldi che vanno nelle tasche dello Stato lo stesso Stato che ha già preso soldi dal malato ricorda vivi in un paese dove vengono tassate le pensioni il mandante è lo Stato ed è contro lo Stato che bisogna lottare tutti gli ordini dei medici tutti i professionisti dovrebbero far approvare un nuovo regolamento che prevede che gli stessi iscritti agli albi siano pagati dallo Stato quando lessi quella petizione scrissi la contropetizione per spostare il focus su quello che era il vero problema quando vedo in televisione personaggi che discutono su quale sia il prezzo giusto da far pagare un malato mi chiedo ma perché nessuno domanda dovrebbe veramente il dentista avere un listino prezzi forse non è conveniente fare questa domanda forse ci sono delle lobby a cui conviene mettere i prezzi sulla salute dei cittadini la prevenzione è l'unica cosa realmente che dovrebbe fare a mio parere un medico sui propri malati in Germania i cittadini sono obbligati a presentarsi ogni sei mesi alle visite di lontano se non ti presenti alla visita di controllo perdi la copertura sanitaria questo è un modello giusto evitare che si crei la malattia ci sono paesi dove si paga il dentista per stare bene in altri paesi si paga il dentista quando si è malati è un conflitto di interessi questo dottore se io sto male ti pago no dovrebbe essere il contrario dottore se io sto bene ti pago ma il giorno in cui mi ammalo smetto di pagarti dovrebbe esistere una vigilanza a livello statale che vigila sulla qualità dei medici di quello stato fare dei controlli a campione sulle terapie che vengono erogate di modo che non ci siano più scandali come quelli che abbiamo visto questi anni di medici che propongono terapie a malati che in realtà poi non sono necessarie tutto nasce dal grande conflitto di interessi che c'è dentro alla sanità e dentro molte altre professioni il medico dovrebbe essere qualcosa che uno fa non per professione ma per vocazione io penso che le strutture mediche private dovrebbero essere acquisite dallo Stato dovrebbero essere integrate all'interno delle strutture pubbliche e all'interno ci dovrebbero operare dei professionisti che vengono pagati appunto dalla nazione dove operano produrre un impianto dentale non costa 2.000 euro il costo medio censito dall'Andi l'associazione nazionale dentisti italiani nel 2009 era più o meno per un impianto dentale finito di circa 1.600 euro la media rilevata in ambito nazionale gli impianti esistono di tante marche ci sono di tanti prezzi ma la produzione ti assicuro che non arriva neanche a 500 euro di un impianto dentale una volta che si sono costruite le fabbriche si sono ammortizzati i costi questi possono essere prodotti a ruota di collo e distribuiti su tutto il territorio il vero costo è quando una persona viene danneggiata fisicamente dalla malattia i materiali che mettiamo in bocca sono tutti materiali artificiali che non c'entrano nulla con la natura e una bocca artificiale una bocca bionica tutta ricostruita al 100% non performerà mai come una bocca naturale è un po' come avere la gamba artificiale non potrai mai fare con la gamba artificiale quello che avresti potuto fare con le tue gambe naturali la prevenzione ricorda e deve diventare un obbligo per i cittadini e lo Stato deve con le tasse poter offrire ai propri cittadini un servizio sanitario 5 stelle qui non si sta parlando di servizi accessori si sta parlando di un diritto umano per tutti esiste una suora americana la sorella Buder che tanti anni fa ha iniziato a correre e appassionarsi alla gara Ironman che è una di quelle gare più estenuanti estreme che esistono al mondo dove c'è corsa nuoto bicicletta ha vinto da poco la categoria 80 84 anni per primo premio di questa splendida gara sportiva che viene fatta ogni anno agli Hawaii un anno questa suora aveva deciso di partecipare a questa gara e quel giorno soffiava un vento veramente forte questa era una suora veramente magrolina piccolina il vento a un certo punto l'aveva sollevata era diventata quella che venne chiamata la suora volante era stata scaraventata sugli scogli si era fatta male e lì tutti preoccupati per il suo stato di salute e per l'assicurazione che non copriva oltre quella età i partecipanti a questa gara estrema l'anno successivo per il suo 81esimo anno di età aveva deciso di riscriversi a questa gara ma gli fu impedito proprio visti i precedenti lei decise quell'anno che per fare la gara Ironman o per correre e fare tutto quel percorso estremo non avrebbe avuto necessità di una pettorina disse sapete che c'è questa è l'America è uno stato libero io se voglio posso correre nuotare andare in bicicletta senza necessità di essere per forza iscritto con una pettorina a alcuna gara questo è uno di quei di quelle storie a cui negli anni mi sono ispirato quando ho pensato allo sforzo che avrei dovuto fare fuori dal mio paese alle lotte che avrei dovuto portare avanti contro tutto e tutti contro le lobby contro le categorie contro chi mi avrebbe criticato per protesta mi sono cancellato dall'ordine dei medici italiani proprio per dimostrare che non hai necessità di essere iscritto ad alcun ordine per informare le persone in maniera corretta tu puoi semplicemente aprire internet e dare informazioni oneste alle persone e aiutare queste persone con le sole informazioni questi sono degli impianti dentali sono di Claudia una paziente del policlinico che abbiamo tolto qualche mese fa dalla sua bocca una vita passata a lavorare per il dentista Claudia ha passato praticamente gli ultimi 20 anni a ripagare debiti prestiti che ha contratto per potersi permettere le cure sanitarie nel suo paese e non ha alla fine ottenuto un miglioramento significativo del suo stato di salute ma anzi negli anni la sua malattia non ha fatto altro che andare avanti e peggiorare questo è un impianto dentale un impianto dentale è fondamentalmente una vite in titanio che viene inserita dentro all'osso e va a simulare quella che è la radice di un dente che è andata persa esistono di tante marche questi impianti dentali vanno hanno dei costi che oscillano dai 30 40 fino ai 350 euro quello per cui io mi sono battuto questi anni è far capire alle persone che non esiste solo A e B esiste anche C delle volte nello stato in cui vivi non esiste neanche B o ti fanno credere che non esiste alternativa che l'unica soluzione è curarsi privatamente io non me la prendo mai con i medici che sono tartassati dalle tasse dal sistema tassativo che tassa due volte la sanità io me la prendo contro il grande assente il grande assente il sistema pubblico che non c'è non si fa altro di parlare di quali siano i prezzi giusti quanto minimi possono essere i tarifari ma non si parla invece di ciò che dovrebbe essere garantito a ogni cittadino ovvero un servizio 5 stelle sanitario a tutti i livelli parlo di otorino laringoiatra parliamo di oculista parliamo di cardiologo di cardiochirurgo parliamo di odonto protesista l'odonto tecnico che dovrebbe essere statale pagato dallo Stato per fornire gratuitamente le protesi ai dentisti che vengono pagati dallo Stato un impianto dentale mediamente rivela l'Andi a un costo rilevato sul territorio nazionale che è intorno ai 1650 euro compresa chiaramente la capsula noi operiamo in un paese dove possiamo offrire gli stessi servizi nonostante questo riusciamo a pagare un'equipe di 70 persone a pagare gli odonto tecnici a pagare le tasse comunali le tasse statali del 12% nonostante questo riusciamo a caricare veramente poco di margine oltre al costo effettivo della manodopera e di attività della struttura e dei materiali se noi togliessimo anche le tasse ti assicuro riusciremo a arrivare al 90% in meno rispetto ai costi del tuo paese se noi possiamo farlo anche il tuo paese potrebbe farlo quando si dice che la sanità è costosa è mezza verità la sanità è costosa a seconda del modello di sanità che si costruisce è possibile avere una sanità gratuita per tutti i soldi ci sono l'Italia è uno dei paesi che paga più tassi al mondo il problema è dove vengono direzionati quei soldi questa battaglia non l'avrei mai potuta fare dal mio paese per questo ho tolto la pettorina sono andato fuori per correre in solitario contro tutti e ho incontrato le persone migliori durante questi anni che la pensano come me e che assieme a me hanno fatto quella stesura della dottrina che dovrebbe essere la sanità per i prossimi 20 anni ho scritto un libro che parla di come dovrebbe essere strutturata la sanità i prossimi 20 anni e quest'anno stiamo realizzando il primo gruppo consumatori sul territorio nazionale europeo che lotta per il diritto umano alla salute i pazienti sono molti di più dei medici la categoria per esempio dei dentisti sono 45 mila persone associate ma esistono 60 milioni di potenziali malati che possono anche loro associarsi fare gruppo e avere il loro dentista il loro medico dipendente che offre loro i servizi gratuiti magari pagati dallo Stato l'obiettivo è quello di fare massa critica per questo abbiamo steso la prima petizione europea che ha lo scopo di sensibilizzare verso il vero tema di cui bisogna parlare ovvero non di quanto debba costare e sia etico un listino prezzi di un medico ma rimettere in discussione il fatto stesso che un medico debba avere un listino prezzi questo ci serve per far prendere alle persone coscienza di quelli che sono i temi giusti da trattare di quelle che sono le domande giuste che le persone dovrebbero farsi e portare avanti in Europa quella che è la richiesta di finanziamento del primo progetto europeo di quella che potrebbe essere definita una sanità di crowdfunding che mai è stata realizzata al mondo una sanità sostenuta dal basso una sanità costruita con l'intelligenza collettiva e non decisa da poche persone io faccio sempre questo esempio mai avrei potuto realizzare da solo questo sogno qua in Moldavia sono riuscito a farlo perché ho avuto dietro una squadra perché ho avuto dietro feedback oltre 2000 feedback di persone che ci hanno consigliato le cose da mettere dentro e quelle invece da tenere fuori il mio cervello contro 2000 cervelli mai avrebbe potuto ottenere tutto questo l'intelligenza collettiva è un grande tema dell'era dell'informazione quando tu metti un computer ha una certa potenzialità di calcolo ma quando tu metti in parallelo 100 unità di calcolo ti assicuro che quello che salta fuori una potenza travolgente che può veramente cambiare in meglio e ripeto in meglio questo mondo i prossimi 20 anni saranno gli anni per cui noi dobbiamo lottare non ci interessa scendere a compromessi con nessuno noi vogliamo la sanità gratuita defiscalizzata non lottiamo per i minimi tariffari ne sosterremo mai le tesi che la sanità non possa scendere oltre certi limiti di costo andiamo oltre rompiamo certe barriere mentali proponendo una sanità inaspettatamente 4.0 e gratuita per tutti siamo di fronte alla delocalizzazione dei servizi oggi per un motivo la vera domanda che bisogna farsi non è se i pazienti che si curano all'estero stiano facendo una cosa giusta o sbagliata la vera domanda che dovremmo farci facendo un passo indietro è perché le persone vanno all'estero a curarsi il motivo è che oggi molti credono che la sola opzione ai propri problemi sia una in realtà c'è un grande assente di cui non si parla rifletti su tutto questo esistono paesi non voglio fare nomi in cui lo stato di emergenza è un'occasione ghiotta per poter lucrare sui problemi delle persone abbiamo visto questi paesi come in passato sono stati il simbolo della modernità dei sistemi economici e oggi sono invece diventati il simbolo dei paesi corrotti a livello economico a tutti i livelli a tutti i settori la corruzione genera problemi malati povertà morte non esagero quando dico questo prova a pensare per esempio nel sistema salute esistono i cittadini che pagano le tasse le tasse vengono versate allo Stato e questi soldi che dovrebbero servire per gli ospedali le cliniche e poter dare dei servizi preventivi oppure pagliativi oppure di cura ai malati non possono essere espletati oppure ospedali a cui mancano i medicinali ospedali a cui mancano i reparti operativi oppure ci sono cinque sale operatori ma ne funzionano solo una mezza delle volte oppure chirurghi che devono operare con strumentazioni non adeguate o non poter mettere in atto dei sistemi di prevenzione sulla popolazione e quindi di screening questo genera malattie parliamo non di una terra dei fuochi parliamo di un mondo dei fuochi dove la commistione tra mafia camorre e chi sta dentro al comando delle ASL genera il malfunzionamento del sistema un sistema che con tutte le tasse che si pagano potrebbe essere un sistema d'alto livello prova a pensare a Cuba Cuba non è una nazione ricchissima anzi poverissima però ha uno dei migliori sistemi pubblici al mondo un sacco di americani ogni anno vanno a Cuba a farsi curare perché ha i migliori medici messi nelle condizioni di operare dal sistema pubblico immagina un paese dove vai a fare la visita in ospedale trovi una lista d'attesa lunghissima fai la visita dopo un tot di mesi e a un certo punto ti viene dato in mano un bigliettino da visita dello studio privato del medico che ti ha curato ma questo non succede in Italia immagina un paese dove nei reparti scompaiono per esempio gli strumenti dove nei reparti odontoiatrici universitari ASL non si può oggi curare una persona perché non bastano più le turbine i trappani per curare le persone i trappani non è che non sono acquistati sono semplicemente spariti da dentro ai reparti da poco un articolo dove sono stati trovati farmaci anestetici ospedalieri all'interno di una grossa catena franchising odontoiatrica italiana dentro al pubblico si consumano ogni giorno furti verso la salute dei malati oppure che possono essere piccoli furti di poche attrezzature ma possono essere talvolta furti di budget interi destinati alla sanità non parlo di tutti delle volte ho visto alcuni primari di certi ospedali oppure di certe cliniche odontoiatriche pubbliche sembravano più politici che dentisti e la camorra la mafia delle volte sta molto vicino alla politica perché la politica lascia passare attrezzature budget o convenzioni per poter espletare trattamenti venendo poi ripagati dallo Stato l'asl non può avere dei fornitori privati l'asl dovrebbe avere i suoi fornitori il sistema pubblico potrebbe costruire domani stesso le fabbriche di materiali di farmaci potrebbe avere un'equip di gente che lavora come per esempio nel comparto odontoiatrico alla realizzazione di protesi quando tu subapalti al privato materiali forniture attrezzature c'è sempre una tangente da pagare e questo è un costo che ricade tutto sui cittadini tutto sulla qualità dei trattamenti che vengono eseguiti una carrozzina del costo di 60 euro 150 euro che poi arriva a costare al sistema sanitario 1000-1500 euro significa che si possono comprare 9 carrozzine in meno si lucra a tutti i livelli la corruzione e lucrare nella sanità pubblica porta all'impoverimento del sistema non è che il sistema non è possibile semplicemente in questa maniera il sistema non funziona perché non c'è il controllo si lucra persino dopo la morte gli obitori degli ospedali pieni di avoltoi che si occupano poi di mettere dentro la salma e la gestione del suo funerale biglietti da visita che passano di mano in mano tra infermieri medici o valigette di soldi che arrivano in stanza nella stanza privata su un tavolo di un dirigente ASL il pubblico insomma è diventato questi anni una bella vasca dove ci si può andare ad abbeverare se siamo interessi privati la corruzione in questi settori strategici è la vera causa servirebbero delle sentinelle che entrano all'interno di questi sistemi e smascherano quelli che sono i sistemi di corruzione ne basterebbero due tre dopodiché non si saprebbe più riconoscere chi è un agente sotto copertura oppure chi è un vero corruttore e tutti si asterrebbero da fare gare da palti truccati e dallo stringere accordi con fornitori che fanno creste sui materiali ricorda la sanità pubblica è possibile ma deve essere una sanità protetta un sistema dove non è possibile fare entrare all'interno la mafia e la mafia non è la mafia non sono delle persone la mafia è un modo di pensare un modo di agire un modo di vivere un modo di comportarsi rifletti attentamente su tutto questo